C'è da dire che Ernia ha vestito questo disco per quel poco che ha ascoltato veramente con delicatezza e questo è un pregio per un progetto fatto oggi, nel 2022, soprattutto se è un disco da cui ci si attende tanto, soprattutto se è un rilancio poi di un artista molto affermato e che comunque fa musica seguendo il cuore. Ernia io lo stimo molto, diverse tracce mi capita di ascoltarle e a parte la delicatezza nella scelta di alcuni suoni, poi c'è Bella Fregatura che secondo me è veramente una traccia iconica che in qualche modo segna un nuovo passo nella sua carriera, però anche se ricavalca un po' lo stile del superclassico, in qualche modo è quella l'epicità che lo riguarda e che poi lo porta a fare brani di questo valore, che hanno ritornelli anche un po' fedeziani, che comunque si mettono bene nel mercato, che sono belli, ma che sono belli, forti e sinceri. Quindi un'auto analizzarsi dentro, quando dice del successo che sembra quasi come se volessi fallire, il modo in cui lui si rapporta al successo e poi in qualche modo fa da ombra a quello che lui è. Noi da questa frase possiamo capire tutta la sua sensibilità, però te lo dice comunque con un tono da spaccone, che però sembra quasi lo spaccone, quello adolescenziale, che un po' fa tenerezza e un po' fa riflettere. Perché comunque quando si trattano certe tematiche si è a cuore aperto e quando si è a cuore aperto si fa sempre un po' tenerezza e poter spendere queste parole è bello per un brano che appunto, come l'ho definito, fedeziano poi nel ritornello, che esplode un po', che ridà un po' a se stesso nei suoi successi, intendo appunto il superclassico, che ridà a tante cose, però ha una veste nuova, un sapore nuovo. Ho sentito pure quella Corcomi, ad esempio, che per carità ha un bel ritornello, devo dire, però mi sembra lo stesso format meno efficace. Qui Ernia secondo me ha dato tutto e ha capito anche che non è tanto saper dar tutto oggi, ma saperlo dare e saperlo contenere e lui è stato molto bravo. Secondo me questo disco che ancora non ho ascoltato perché appena è uscito mi sono soffermato sul singolo, è un disco che ha da dirci tanto, che merita approfondimenti e che soprattutto è un disco che va dritto, diretto, senza troppi intoppi nell'ascolto, ma allo stesso tempo ti ammolla qualche perla qua e là. Secondo me questo è quello che dovrebbe fare un prodotto pop fatto bene. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.